L'International Fashion Week arriva a Catania. Da sabato 1 luglio a lunedì 3, grandi stilisti, fashion designer e giovani emergenti saranno protagonisti della tre giorni di moda, arte e cultura, promossa dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, che quest'anno ha scelto la città etnea per ospitare l'evento. In programma la sfilata delle 2023-2024 Collection e la consegna dei prestigiosi Golden Muse Award, ambito premio assegnato ad illustri personalità che si sono distinte anche a livello internazionale per alti meriti. I riconoscimenti verranno consegnati nella serata in programma domenica 2 luglio a Palazzo Biscari. Catania si prepara ad accogliere la moda e l'alta moda e i riflettori si accenderanno quindi dall'1 al 3 di luglio. Abbiamo voluto fortemente realizzare questa quinta edizione qui in Sicilia nonostante la sede legale della Camera si trovi a Roma perché comunque il nostro è un progetto che parte dal sud. Poi abbiamo sempre avuto un gemellaggio con la nostra amica Sicilia e poi per dare risonanza a una città, quale appunto Catania, che è da sempre insomma a favore di quello che è lo stile, di quello che è la creatività, l'apertura mentale alle nuove tendenze e anche l'eleganza delle eccellenze internazionali del Made in Italy. Giorno 2 luglio quindi ci troveremo presso il Palazzo Biscari dove conferiremo il Golden Music Award a tutte quelle illustre personalità che per alti meriti si sono contraddissitte a livello internazionale. Quindi lo conferiremo alle eccellenze internazionali del Made in Italy quali Carlo Alberto Terranova, Giovanni Cannistra e poi una giovane eccellenza Filippo La Terza e un artista internazionale quale Besnick Arizaji. E poi ci saranno i fashion designer che presenteranno le loro collezioni 2023-2024 e quindi spazio a Valentina Poltronieri, a Femme, a Verde Echeli e a Bottega Bernard. E infine il contenitore ecco delle New Generation perché come camera abbiamo bandito quest'anno un concorso e quindi due finalisti di questo bando presenteranno quindi le loro collezioni e quindi sveleremo durante l'International Fashion Week chi è arrivato quindi al primo posto e chi è al secondo posto. Giorno 1 dove daremo lustro a questa bellissima città dove si terranno degli shooting fotografici delle collezioni dei nostri nomi altosonanti che parteciperanno poi all'evento di giorno 2 e in più giorno 3 invece ci sarà un gemellaggio con quella che è l'Accademia di Belle Arti di Catania, in particolar modo con il corso di fashion design curato dalla professoressa Alecci dove il nostro Golden Music Award Filippo La Terza si aprirà alle nuove generazioni e darà appunto modo di dare appunto dei consigli di aprirsi con tutta quella che è stata la sua carriera e i suoi apici che l'hanno portata al successo. Le opportunità di occupazione in questo settore naturalmente partono tutto da quello che è l'impronta, la creatività, il mettersi in gioco e dare appunto un perché a quello che sono le creazioni di ogni singolo fashion design.